Ecco, no, guarda bene la mano, quale mano? Guarda bene, ti sta così? Ecco, mi sembrava. Gli altri due piedi? Benissimo, e qui quale mano sta? Benissimo. Ecco, ora è un po' difficile, alzati i piedi, vedi che c'è un piede solo. E l'altro piede devi sollevarlo. Vai, sei bravissimo, sei bravissimo Ricky, sei bravissimo, dai. Sai stare su un piede solo? Sì. Ah, sta l'altro, vediamo. Ah, no, 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 andiamo. Ecco, altri. No, è il mio, è il mio marito, è il babbo. Ecco. È il twister al contrario, Paolo. E ora? E ora? Un piede solo? Eh, quella piede lì, vedi che le dita stanno al contrario? No, 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 alzati, 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 guarda il piede, vedi? Sì. E questo? Ah. Ecco. Vai, corso. No, alzati, alza questo piede, vediamo se riesci a stare su un piede solo. Ce la fai, ok, lascia il piede alzato, questa non sarà facile, ecco, lasciando il piede alzato, con il piede alzato, metti le mani su, e l'altra. No, è ancora un po' difficile, questo è un po' difficile, finisci con questi, come li vedo? No, 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 ecco. E' un po' difficile. Yeah. Grazie.